buongiorno a tutti per chi non mi conoscesse sono Federico Osmanio l'amministratore delegato di YLAB e sono veramente felice di ritrovarvi oggi in questo riedizione di YLAB Innovation Talks con con un ospite particolare speciale direi perché Susanna Zuccarini di Invitaglia e poi scopriremo chi è cosa fa cosa fa Invitaglia che poi è il senso di questo talk mi ha dato un'occasione l'occasione è stata quella di riprendere rispolverare questo format YLAB Innovation Talks che per chi ci conosce l'avevamo ideato durante la pandemia famigerata che però ci ha dato tanti aspetti positivi cioè il fatto di poter lanciare un format digitale in cui raccontare innovazione incontrare tanti protagonisti della scena italiana e internazionale ovviamente perché il marchio di fabbrica di YLAB lo conoscete sullo sport e quindi siamo andati un po' più sul verticale sportivo però e quindi Susanna con la quale recentemente ho fatto un viaggio non pensate male siamo andati a Campobasso alla casa delle tecnologie emergenti del Molise e quindi ci siamo anche conosciuti in quell'occasione un paio di mesi fa se non ricordo male è un'operatrice dell'innovazione in Italia che fa un sacco di cose molto utili e interessanti per chi o è già una startup o lo vuole diventare adesso io sintetizzo estremamente e ho conosciuto Susanna poi abbiamo deciso abbiamo deciso non so neanche per quale motivo in questo momento potevamo farlo prima di entrare a far parte del network della rete di Vitalia e allora l'occasione era propizia per raccontarlo un po' la nostra community perché non solo perché non tanto perché dobbiamo dire che Moilab è entrato nella rete di Vitalia se non che questa porta delle opportunità per chi ci segue, per le startup che fanno parte della nostra rete, del nostro network quindi questa era una bella occasione in più anche lì un po' senza troppa struttura abbiamo detto riprendiamo i Wallab Innovation Talks e facciavano uno ogni mese per dare un contenuto di valore alla nostra community, al nostro network iniziando proprio da Susanna e da Vitalia questo è stato un po' l'incipit di questa storia perché penso sia importante per voi essere qui e per chi magari ascolterà questo webinar on demand più tardi nei giorni successivi perché lo vogliamo fare? anche perché siamo consapevoli che il tempo è prezioso il tempo è denaro perché io credo e crediamo fortemente che ci sia un aspetto di education di formazione all'innovazione cioè non è che l'innovazione l'innovazione vuol dire anche azione nel senso che uno l'innovazione la deve fare però bisogna anche capire che cos'è quindi un po' di aspetto formativo ce lo mettiamo tra l'altro noi abbiamo anche un'academy per cui non ci vergogniamo di dire che facciamo anche formazione poi c'è un aspetto informativo molto importante perché tante volte ci sono tanti strumenti tante persone, tanti soggetti che operano in questo meraviglioso mondo dell'innovazione italiano ma non le conosciamo perché siamo presi dai nostri tran tran quotidiano e non conosciamo magari degli strumenti quindi informativo perché io credo e spero che questo format possa aiutare tante persone a scoprire delle cose nuove le relazioni sono fondamentali perché ovviamente invitare Susanna ci dà l'occasione di stringere un legame già attivo e di tutti noi che partecipiamo di conoscerci meglio chissà stamattina ho sentito una startup il founder di una startup ha mandato un messaggio qui c'è il co-founder adesso senza svelarlo e mi dice sai l'ho conosciuta Susanna sono tutte cose che poi si legano in questi eventi e poi divertirci un pochino magari dico che questo è una stand up comedy non è quello il nostro obiettivo però se diciamo anche a raccoltare delle storie degli aneddoti e passare una mezz'oretta piacevole questo è sicuramente un altro punto importante quindi direi che ho fatto anche un'introduzione troppo lunga rispetto a quello che volevo fare mi sono lasciato anche trascinare un po' dalla storia però avevo piacere veramente che siamo qui insieme oggi per questa riedizione del Global Innovation Talks allora senza ulteriori pappartelli iniziali vorrei presentare Susanna Zuccarini che è Senior Business Developer poi ci spiegherai Susanna che significa però più o meno l'abbiamo intuito di invitaglia ormai da 11 anni in questa società che per chi non lo sa è l'agenzia nazionale che si occupa di attrarre investimenti e di sviluppare l'impresa sul mandato del governo italiano quindi insomma qualcosa di grosso e importante di istituzionale che ha tra gli obiettivi tra gli obiettivi che io mi sono letto un attimo avete ce ne sono di molto importanti lo sviluppo sostenere l'innovazione e sviluppare il sistema produttivo e quindi anche le start-up e le scale-up le PMI italiane valorizzare i territori le potenzialità dei territori e poi favorire attrazione di investimenti esteri e poi magari anche questo è un aspetto interessante perché non c'è solo un aspetto prettamente italiano ma ci muoviamo in un contesto molto aperto Susanna ho parlato anche troppo se ci vuoi raccontare un po' chi sei anche proprio la tua storia personale ci può interessare e come sei arrivata poi a fare quello che fai oggi grazie intanto della ah due ringraziamenti importanti Susanna per aver accettato il nostro invito e Gioele raffetto del mio team per aver organizzato molto bene fino a questo momento ovviamente stiamo facendo però insomma tutti gli aspetti preliminari del workshop li ha visti lui quindi grazie Gioele per il lavoro che hai fatto Susanna grazie grazie mille devo dire ti porterei a fare gli intro di tutti i talk perché invece lo storytelling introdurre e capire un po' il contesto in cui ci muoviamo secondo me insieme in questa in questa avventura secondo me è molto è molto utile e anche interessante per noi lavorare con gli attori dell'innovazione con chi lavora con 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 le start up tutti i giorni mi chiede di confermare la mia lingua gli diciamo che parliamo in italiano però sì e chi è a fianco ogni giorno delle start up per noi è proprio un vero e proprio partner strategico e direi essenziale per poter lavorare bene e per fare per portare la nostra mission di sviluppare le imprese farle crescere farle nascere soprattutto quelle innovative ma non solo in modo in modo veramente efficace io ho una storia nasco da economista cioè ho fatto studi da economista e ho sempre lavorato nell'ambito della finanza agevolata prima la finanza agevolata era più aveva un'impronta privatistica di fatto i ministeri insomma il governo metteva faceva delle gare per l'assegnazione insomma della gestione di degli incentivi pubblici dei fondi insomma adesso è più si è passato ormai da tanti anni ad un modello più di agenzie in house e quindi in Vitalia dove sono approdata negli ultimi appunto dozzina d'anni è l'agenzia nazionale per lo sviluppo del paese totalmente partecipata dal ministero economia e finanza insomma partecipata totalmente pubblica e dentro questa società ho fatto vari step prima ho lavorato nella parte di assistenza tecnica al ministero delle imprese dei made in Italy si chiamava ministero dell'industria poi attività produttiva e poi insomma sviluppo economico sempre loro sono e quindi proprio come a fianco dei nostri dirigenti pubblici insomma che decidono e che mettono a punto poi gli incentivi diciamo che progettano nella fase proprio iniziale di policy advocacy e policy co-design a fianco della PA e poi ho avuto la grande occasione insomma di entrare in quello che è di fatto l'area marketing l'area promozione sviluppo servizi di Invitalia Invitalia in effetti è molto nota per gli strumenti finanziari gli incentivi i fondi i voucher e la 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 tutte tutti gli incentivi nazionali per le start up sono gestiti da Invitalia per cui qua proprio siamo siete proprio il topo del formaggio e da questo punto di vista ma sono meno noti tutti i servizi che ormai sono cinque sei sette anni che abbiamo messo in campo proprio grazie anche a queste partnership questo network sistema Invitalia start up la nostra attività il nostro team che si chiama promozione servizi accompagnamento per affiancare le imprese cioè per allineare i linguaggi per tra quello tecnico e quello più burocratico degli incentivi dei regolamenti comunitari e orientare prima ancora di allineare i linguaggi evidentemente verso la nostro portafoglio di offerte e capire qual è in base al progetto qual è lo strumento se c'è un incentivo se c'è una linea di finanziamento pubblico adatto a quel progetto se ci pensate proprio come come fate voi start up trovate una soluzione a un bisogno del mercato anche noi facciamo la stessa cosa avete necessità di far crescere la vostra realtà di farla nascere perché siete un team oppure magari una PMI una grande impresa che decide di fare uno spin off su un progetto particolarmente innovativo piuttosto che una nuova iniziativa imprenditoriale magari di chi si è appena laureato ha acquisito delle competenze molto specialistiche e quindi lancia la propria nuovo progetto ecco noi cerchiamo di capire qual è l'incentivo lo strumento adatto magari anche anche il programma di incentivazione perché adesso in particolar modo anche siamo molto attivi e impegnati in programmi destinati all'imprenditoria femminile stiamo lavorando tantissimo per colmare questo grande gap in termini di imprese femminili totali in Italia che sono solo il 22% del totale ma soprattutto di start up femminili che sono ancora meno la percentuale si abbassa al 14% quindi ho fatto un po' disamina guarda io mentre parlavi e ti ascoltavo pensavo che dovremmo probabilmente in questa occasione se riusciamo a sfatare due miti vado un po' fuori contro diciamo diciamo avevamo un po' una scaletta però poi la scaletta bisogna un po' a volte improvvisare non prendere paura però in realtà mentre parlavi è inutile non possiamo negare che le persone gli italiani pensano che il pubblico sia un po' c'è un po' di immobilismo no? si è molto critici no? però io se guardo le start up del nostro network e do un'occhiata a quelle che conosco di più di WeSport Up dove in questo momento mi trovo a gestire con WeLab programma di accelerazione ne conto 7-8 che hanno già o applicato o usufruito dei vostri strumenti però dimmi tu vogliamo sfatare questo mito che siete immobili in realtà fate tantissime cose magari se ce le spieghi ci aiuti e l'altro mito è che c'è solo Smart Start perché magari uno conosce in Italia per Smart Start molte delle start up del nostro network ripeto sono in fase di application o hanno usufruito dello strumento quindi potrebbe essere molto utile che ci fai proprio una carrellata anche di tutti gli altri strumenti che avete e racconti anche alcuni episodi alcune storie che dimostrano che non siete affatto immobili di tutte le cose che fate va bene ce la facciamo a voglia certo certo poi l'improvvisazione ci piace e la contaminazione tra noi e voi anzi poi lasceremo anche spazio alle domande degli start up perché ci piace anche giusto c'è spazio continuare a rispondere ai vostri bisogni cioè stiamo cercando di evolverci anche noi insomma forse siamo un pizzico più lenti però arriviamo sì il primo mito il primo mito l'abbiamo cerchiamo di sfatarlo tutti i giorni noi proprio il nostro team ci lavora ci lavora ogni giorno perché perché l'idea proprio di aver creato questo network e questi servizi reali dedicati alle imprese che vogliono fare soprattutto diciamo alle start up a chi vuole lanciare una nuova iniziativa svilupparla ulteriormente è proprio noi lo chiamiamo uscire dal palazzo cioè l'idea proprio di andare nei luoghi dell'innovazione o da remoto come oggi o fisicamente partecipare alle iniziative agli investor day demo day per esempio insomma per parlare anche dei vostri programmi di accelerazione di inserire dei moduli formativi nei vostri programmi di accelerazione dedicati ai servizi e gli incentivi e fare degli incontri di orientamento anche one to one appunto voi mi raccontate il vostro progetto e noi vi raccontiamo cosa c'è per voi cioè l'idea è di affiancare gli imprenditori le start up insomma i team prima di poter sfruttare diciamo quindi per valutare se poter sfruttare e migliorare come dire l'occasione l'opportunità il cogliere questa opportunità dell'incentivo pubblico fatto apposta per voi ma anche dopo perché perché ovviamente c'è in mezzo c'è questo percorso blindatissimo che è l'istruttoria qui entriamo proprio insomma in quello che è il spiegacelo spiegacelo le procedure amministrative anche operativamente credo che sia curioso e giusto e utile capire qual è tutto come avviene l'inter poi magari ci fai vedere gli strumenti va bene customer journey quindi proprio allora noi in questi incontri come oggi piuttosto che in presenza piuttosto che dagli eventi torniamo da WeMakeFuture abbiamo incontrato quasi cento team e start up interessate insomma ai nostri incentivi proprio uscendo dal palazzo insomma sia fisicamente che partecipando agli eventi dei nostri partner facciamo questa azione di orientamento cioè vi raccontiamo quali sono i nostri incentivi poi facciamo i one to one facciamo un accompagnamento cioè voi decidete che quello è l'incentivo a caso vostro sulla base delle caratteristiche che poi vedremo un pochino più in dettaglio vi faccio vedere anche un po' un prospetto riassuntivo presentate la domanda ormai si usa l'inglesismo applicate scatta scatta tutta la fase di procedimento amministrativo blindatissimo che fa un altro team evidentemente noi nella fase di accompagnamento non facciamo nessun tipo di prevalutazione non è una corsia preferenziale per ottenerlo quel finanziamento ma è un allineamento di linguaggio abbiamo detto un approccio maieutico proprio un percorso procedurale quindi voi scrivete il business plan noi vi facciamo un check di completezza di qualità di requisiti insomma di accesso sgombriamo il dubbio alle vostre domande applicate parte il processo di istruttoria mettete in conto sempre almeno tre mesi diciamo che un mese entro un mese vi chiameremo con una PEC occhio quindi tenete d'occhio la vostra PEC per il colloquio di valutazione c'è sempre un colloquio di valutazione per tutte le start up almeno uno in cui sarete sicuramente preparatissimi voi con tutto il team di management soprattutto dei soci su tutta la domanda sui numeri soprattutto su quelli ma insomma su tutto il modello di business e facciamo un check proprio di di prevalutazione insomma il team istruttorio dopodiché si proseguirà l'analisi desk su tutti i documenti sul piano di impresa il business plan redatto sui form specifici del richiesti dalla normativa un pitch che noi consigliamo sempre di allegare anche se in alcuni strumenti non è richiesto smart start lo richiede obbligatoriamente tutti i documenti si completa l'istruttoria che abbiamo detto fa l'area operativa insomma i nostri colleghi che sono proprio in un'altra area totalmente separata otterrete una comunicazione di esito positivo una comunicazione di esito negativo ma solitamente prima c'è sempre una richiesta di integrazione documentale o a volte una comunicazione di motivi ostativi ovvero una sorta di se non ci fornite anche questi documenti se non ci date ulteriori elementi per valutarvi l'esito sarà negativo insomma quindi noi diciamo sempre non vi spaventate c'è possibilità ancora siete perfettamente in gioco parliamo di giochi avete ancora la palla sicuramente dalla vostra parte quindi si completa otterrete una comunicazione di esito lanciamo il cuore all'ostacolo e parliamo di esito positivo e a quel punto scatta la richiesta dei documenti amministrativi cioè dovete siglare il contratto di finanziamento in quel caso vi chiediamo tutta la parte burocratica carichi pendenti diciamo la documentazione tutta amministrativa lo statuto insomma eccetera tutta la parte dei soci quindi 5-6 mesi avete il contratto firmato considerate che dal giorno dopo della presentazione della domanda potete già avviare il progetto cioè le spese sono finanziabili dal giorno dopo della presentazione della domanda ma aspettare la comunicazione di esito non è male perché per un fatto sempre di fatture di codice unico di progetto da portare sulle fatture vabbè un po' di tecnicismi ma pure su questo vi daremo una mano vai utile no 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 stavo mi è venuta in mente una cosa non so se lo sai ma riesci a darci panometricamente un'idea di qual è il tasso di successo di esito positivo rispetto alla totale delle application che fanno le start up sì ovviamente dipenderà dallo strumento ma insomma un'idea ecco di quanta probabilità di successo hanno partiamo da smart start che sicuramente un po' perché siamo in questo ambito no di start up innovative ed è l'incentivo nazionale per voi per voi start up innovative è un po' perché forse lì l'asticella è quella più alta cioè lì c'è è l'unico è l'unico strumento in cui uno dei caratteri uno degli elementi di valutazione è il carattere innovativo dell'iniziativa la capacità cioè del vostro progetto di introdurre effettivamente un po' un'innovazione disruptive poi ritorno su questo se ci abbiamo tempo perché vi vorrei raccontare che cosa un investitore pubblico perché oggi di questo parliamo siete abituati magari a confrontarvi con investitori privati stessi stesso YLab al proprio fondo di venture capital collegato e noi abbiamo una vista differente vogliamo aiutarvi per lanciare la vostra iniziativa sul mercato per il go to market dell'iniziativa senza dover fare il 10x senza puntare all'exit per noi e rientrare e rientro di quei di quegli incentivi di quei fondi insomma per poter finanziare nuove iniziative per Smart Start una su tre una su quattro viene ammessa diciamo rispetto al devo dirvi che qua siamo dovrei parlarne off records ma insomma siamo registrazioni in corso tutte le iniziative che sono accompagnate aumentano un pochino questa percentuale ma non perché facciamo una prevalutazione una corsia preferenziale ma perché spesso e volentieri sgombriamo il campo da dubbi o non requisiti di accesso cioè evidentemente chi magari non ha il requisito d'accesso o non è a uno stadio di sviluppo tale da essere come dire da avere maggiori chance di successo viene già in qualche modo intercettato viene già in qualche modo aiutato ho avuto il caso per entrare in qualche esempio insomma per essere meno meno tediosi una start-up un team molto molto competente e stava realizzando una soluzione hardware e software per aiutare gli ipovedenti affetti da una malattia specifica delle maculopatie specifiche di fare esercizi per allenare insomma per non far per non regredire ma per allenare e migliorare la propria la propria vista scarsa già attraverso un tablet degli esercizi che normalmente si fanno dall'oculista o da specialisti ma farli a casa quindi seguiti con un'app e con quindi piattaforma e poi la parte del device in quel caso il TRL cioè il grado di sviluppo tecnologico della loro soluzione non era sufficiente cioè c'era bisogno di un prototipo già validato per poter poi essere più avere maggiori chance di essere finanziato per poter poi dopo raccontare il go to market come sarebbero andati sul mercato e a vendere poi ad avere maggiori potenzialità per effettivamente lo sviluppo e la sostenibilità economica e finanziaria di tutto quindi aver aspettato quei sei mesi per arrivare a un prototipo già validato è stato sufficiente per poter avere effettivamente una missione questo tanto per darvi un'idea quando dici molto interessante questo aspetto quindi un 30% di successo hai detto più o meno quella è la percentuale quando hai detto accompagnate le start up intendi che seguono un programma di accelerazione hanno fatto lo fanno parli di quello sono incubate intendi quello per accompagnamento ho capito bene esattamente per noi l'accompagnamento lo troverete poi insomma sui nostri siti poi vi daremo un po' magari se volete un po' di materiali per noi l'accompagnamento sono tre incontri one to one con piano di impresa progetto già scritto sulle application form previsti dall'incentivo Smart Start o quello che sia e con quindi percorso procedurale il famoso percorso procedurale di cui parlavo prima ah ok ok non avevo capito male io no 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 e quando però però il collegamento è molto è molto forte ed è molto interessante le start up che provengono dall'incubazione dai programmi di accelerazione sono preparatissime cioè per noi il vostro filtro e la vostra academy cioè tutta l'attività che voi fate voi incubatori acceleratori di miglioramento delle competenze di tutta la parte di business coaching che gli fate la ritroviamo in pieno considerate che i form sono redatti sul business model canvas cioè proprio evidentemente sui modelli su cui lavorate in accelerazione e in incubazione gli stessi spese di incubazione e accelerazione sono finanziabili pienamente da smart start senza limiti cioè tutto questo è il lavoro degli incubatori acceleratori viene riconosciuto e premiato peraltro sia come ammissibilità sia con una premialità uno dei quattro parametri di valutazione che è la fattibilità tecnica e operativa dell'iniziativa è pienamente già soddisfatto quando si va a dimostrare di provenire da un percorso di incubazione di accelerazione quindi abbiamo la fattibilità tecnica hai detto operativa operativa ok abbiamo un livello diciamo di innovazione poi quando sento disruptive è un po' difficile sempre essere disruptive però diciamo un livello di innovazione avanzato quali sono gli altri due elementi che prendete in considerazione le competenze tecniche gestionali amministrative finanziarie cioè che il team abbia le competenze team soci e management team non per forza solamente i soci abbia tutte le competenze per governare tutti gli aspetti della realizzazione insomma di quel progetto e poi la sostenibilità economico finanziaria rispetto alle potenzialità del mercato e torno solo un istante sul disruptive perché in effetti il disruptive non ci dice tanto ovvero per noi innovativo è un po' per noi l'innovazione considerate che l'innovazione la valuta un comitato tecnico scientifico nominato dal ministero delle imprese del Made in Italy per cui su noi su quello è diciamo l'elemento che in qualche modo demandiamo per normativa all'esterno degli esperti di settore proprio dei professori universitari sono degli esperti di settore quindi si dividono in base al settore in cui rientra l'iniziativa di fatto è la capacità del vostro progetto della vostra soluzione del vostro prodotto del vostro nuovo processo del vostro innovazione organizzativa insomma del vostro piattaforma di introdurre un scusate di soddisfare quel bisogno abbiamo detto che parliamo partiamo sempre dal need in modo nuovo diverso innovativo rispetto all'attuare offerta sul mercato quindi soluzione target evidentemente di mercato il vostro quindi utente consumatore suo utilizzatore e qualcosa che cambia rispetto diciamo all'attuale all'arena competitiva attuale quindi ricordatevi questo elemento da dimostrare nella vostra progetto nel vostro piano di impresa ne ho fatto bene a ricordarlo perché quello poi è un elemento anche di valutazione delle start up quando si candidano a un programma di accelerazione in assoluto poi è chiaro che ci sono delle realtà che possono nascere e crescere bene e svilupparsi anche se non sono particolarmente innovative nella misura in cui riescono a stare sul mercato ed autosostenersi non tutti sono unicorni o comunque possono crescere a una velocità importante però questo è un altro paio di maniche comunque senti Susanna noi ci eravamo dati come obiettivo di non andare oltre i 40 minuti un po' perché sappiamo che questi format poi diventano anche un po' troppo lunghi però ovviamente il tempo vola e gli argomenti sono molto interessanti ti prendi 2-3 minuti 5 anche se è necessario per farci vedere anche oltre a Smart Start che cosa c'è che cosa fate se vuoi anche accompagnarti con alcune slide che so che hai preparato può essere utile anche per chi ci ascolta qui ci ascolterà capire anche quali sono gli altri strumenti che avete nel vostro arsenale yes adesso arriva anche la presentazione tutto schermo senza tediarvi vi voglio mostrare allora al volo vi dai l'occasione perché abbiamo preso Smart Start come benchmark ma non c'è solo Smart Start e non c'è solo appunto giustamente iniziative del tutto innovative vedete abbiamo un po' inserito in questo asse della scissa delle ordinate il ciclo di vita delle nostre della nostra impresa quindi da diciamo anche libere professioni da insomma da autoimpiego fino a start up fino poi verso lo sviluppo PMI PMI innovativa grande imprese sull'asse delle ordinate l'investimento e qua c'è un po' il portafoglio di offerta come si divide ho messo alcuni esempi perché la famiglia diciamo il portafoglio si sta arricchendo e mano a mano due battute le faccio anche su questo se abbiamo tempo io mi focalizzerei quindi sulla parte centrale cioè di start up con investimenti fino a 3 milioni di euro e su questo ho riportato sinteticamente su questa scheda vedete sulla sinistra è un po' cosa possiamo finanziare come quindi in termini di finanziamento il valore del progetto in termini di investimento la famosa class delle ordinate i soggetti beneficiari e dove questo strumento funziona diciamo può essere applicato quindi dove vai a realizzare quell'iniziativa qui a parte smart star di cui abbiamo parlato ma ovviamente io mi riservo di fare dei one to one con tutti tutte le le team insomma e le start up che volessero approfondire qualsiasi di queste di questi strumenti che volessero poi raccontarci il progetto la secondo elemento diciamo il secondo strumento e di cui volevo farvi un un accenno una panoramica velocissima è oltre nuove imprese a tasso zero on in questo caso parliamo di tutte le iniziative non necessariamente di creazione o sviluppo di imprese di nuco però quindi entro cinque anni della costituzione o anche costituende in cui lì l'asticella è diciamo il proprio soggetto beneficiario ovvero parliamo di team di persone fisiche con maggioranza di giovani under 36 e o donne che per noi non hanno per questa misura non hanno limiti di età oppure società in cui effettivamente la compagine societaria abbia queste sia maggioranza di teste e quote di donne e o uomini e o giovani e under 36 su tutto il territorio nazionale per farvi un esempio qui abbiamo finanziato visto che siamo in ambito sport una palestra di arrampicata a Bergamo con tutte le attrezzature per evidentemente esercitare questo sport un altro incentivo e qui rientriamo nel mondo dell'innovazione è brevetti più e qui tutti coloro che hanno in nel cassetto un brevetto depositato un brevetto o sono licenziatari di un brevetto aspettano ardentemente ogni anno l'apertura dello sportello di fatto è sempre quasi purtroppo un giorno non click sì click day quasi perché abbiamo sempre pochi fondi ma ogni anno si apre la finestra per applicare a brevetti più per tutti coloro che hanno evidentemente vogliono valorizzare e acquisire dei servizi specialistici per lo sviluppo e il trasferimento tecnologico di un brevetto vi ho riportato anche se è in direttura un po' di arrivo sta finendo i fondi resto al sud resto qui sono più piccole iniziative fino a 200.000 euro se vi ricordate nel nostro diagramma insomma erano in basso un po' a sinistra progetti per nuove imprese o per sviluppare attività già esistenti purché costituite dopo il 21 giugno 2017 nel territorio particolarmente svantaggiati quindi mentre le altre tre iniziative operano su tutto il territorio nazionale qui siamo nel sud Italia al di sotto dall'Abruzzo in giù nelle aree del cratare sismico del centro nord e nelle isole minori del centro nord quindi insomma qui una veramente una carrellata velocissima ma ci riserviamo di fare tutti gli approfondimenti per farvi vedere cosa ad oggi una nuova iniziativa insomma un'iniziativa già esistente che vuole ulteriormente svilupparsi può accedere brevetti più ripeto non è operativo ma tendenzialmente lo aspettiamo per subito dopo l'estate molto bene Susanna io direi che prima di aprire le domande magari c'è qualche curiosità dagli ospiti oggi qui ti direi qual è un po' il tuo sogno la tua la tua ambizione anche la tua aspirazione visto che sei ormai da 11 anni in Italia per i prossimi tre anni cosa ti aspetti che possa succedere quali sono i KPI di riferimento a cosa state puntando sia dal punto di vista tuo personale ma anche come agenzia puoi condividerlo con noi certo con piacere stiamo lavorando da quest'anno nelle fasi abbiamo parlato finora di tutto quello che i servizi prima di applicare di ottenere un incentivo il nostro sogno è quello di vedere le nostre start-up innovative che stanno diventando PM innovative che stanno anche restando sul mercato hanno ottimi e anche le nostre insomma start-up non necessariamente innovative hanno buone performance stiamo facendo delle analisi di impatto di efficacia e di efficienza dei nostri incentivi e abbiamo stiamo riscontrando che hanno migliori performance sia in termini di fatturato che in termini di occupazione che in termini proprio di resilienza insomma di diciamo bassa mortalità l'idea è di farle crescere le vogliamo far crescere le vogliamo aiutare a crescere e su questo fronte abbiamo siglato stiamo siglando degli accordi con i nostri cugini i nostri fratelli lavoriamo stretto contatto con MCC fondo centrale di garanzia tutta la parte diciamo evidentemente anche come banca lavoriamo veramente a fianco a fianco con CDP venture capital noi partecipiamo il 30% dentro quello che è il veicolo di investimento con fondi pubblici cioè ragiona con logiche private quindi i vostri partner no insomma che del del we sport up ma soprattutto stiamo portando anche le nostre imprese a raccontarsi nei negli eventi portiamo diciamo li portiamo come casi di successo li portiamo ad incontrare degli investitori quindi li aiutiamo nel networking quindi l'idea di farle diventare grandi portarle verso le scale up perché in Italia abbiamo questo brutto vizio del piccolo e bello ma sappiamo che sui mercati globali che insomma non possiamo più ragionare in termini local ma dobbiamo forse global però insomma più global e questo ce lo insegnate più voi che altro e questo insomma è un po' il nostro sogno del cassetto su cui stiamo lavorando e poi devo dire lavorare sulle donne sulle competenze cioè accrescere lo spazio e la come dire la presenza delle donne sul proprio per nell'ambito del che possano contribuire la crescita del sistema produttivo ed economico del paese e sociale ma lì c'è direi ottimi presupposti tra l'altro siamo anche in linea perché anche noi abbiamo tra i nostri obiettivi quello di far crescere non so le start up non è che crescono di per sé perché vogliono rimanere start up no? Quindi uno degli obiettivi che hanno gli imprenditori è quello di scalare anche a livello internazionale ovviamente in un mondo così competitivo per cui spesso le nostre sono un po' più forse penalizzate dal fatto che il sistema ovviamente non dipende da voi ma dà poche opportunità di finanziamento rispetto ad altri paesi europei o altri paesi extra europei però insomma cerchiamo di colmare il gap e comunque rimboccarci le maniche per poter far qualcosa ora io lascerei quello è sicuro tutti i giorni allora io farei così se ci sono delle domande perché abbiamo un po' esaurito gli argomenti nel senso che poi l'obiettivo era quello di presentarvi un po' alcuni strumenti presentarvi Susanna e il suo team presentare un'opportunità per chi non la conosce anche se vedo che poi è abbastanza conosciuta in Italia e tanti degli strumenti che mettete a disposizione però se ci sono delle domande che possono anche completare un po' gli argomenti ben venga magari ci prendiamo cinque minuti e chiudiamo le tre quarti cinquanta insomma così poi andiamo anche a pranzo questa era un po' l'idea c'è qualcuno che ha qualche curiosità oppure qualche commento insomma a cui puoi rispondere anche Susanna Mirko vedo che Mirko ha alzato la mano ciao Mirko buongiorno a tutti ciao Federico grazie mille signor Zaccarini per la presentazione no io più che altro volevo fare una considerazione nel senso noi siamo una di quelle start up selezionate del programma di accelerazione di WeSport App start up innovativa che abbiamo fatto application in Invitaglia e siamo stati poi respinti anche in seconda istanza annetto che se è fattibile come accennava prima mi piacerebbe fare un one to one per rivedere magari la nostra posizione nello specifico ci sono state contestate dei parametri che il giudizio poi dato da Invitaglia potrebbe essere anche anche quello contestabile nel senso faccio un esempio hanno preso come dato non valido il fatto che il CAGR del nostro settore media ponderata cresce del 14% e noi diamo dei dati della crescita della nostra start up del 300% però capisce bene che il dato ponderato di settore è valutato su un mercato consolidato mentre una start up è in fase di crescita è ovvio che i primi anni ha un tasso decisamente più alto o perlomeno si ipotizza abbia un tasso di crescita decisamente più alto rispetto a quello che è la media ponderata della crescita del settore quindi ci sono dei parametri che abbiamo ricevuto e dei punteggi decisamente bassi su delle analisi soprattutto legate al mercato che non su cui non eravamo molto d'accordo abbiamo provato poi ad articolare ma poi alla fine il processo non è andato a buon fine abbiamo fatto vedere la pratica ad un'agenzia di quelle che seguono queste pratiche burocratiche e la risposta è stata ma guarda se la ripresentiamo se ci pagate la fee diciamo che grosso modo riusciremmo a farvi passare al 90% 95% insomma quindi mi viene a dire è quasi sempre un discorso di pagare qualcuno dei professionisti che mettono le parole al posto giusto più che effettivamente riuscire a portare avanti in autonomia determinati processi che poi aiutano la nostra azienda e quindi volevo capire se il processo che fate voi iniziale può bypassare queste figure che perlomeno personalmente non trovo allineate con la nostra visione di startup e di processi semplici e fluidi per agevolare il settore mi sono grazie Mirko mi dai l'occasione per ti rispondo due battute e poi giustamente ci fisseremo con piacere insomma un approfondimento sul progetto se credete insomma con piacere volentieri ok è capitato insomma è capitato più volte allora i servizi di accompagnamento quelli che appunto noi chiamiamo di accompagnamento li abbiamo messi in campo non l'ho detto ma mi dai l'occasione per farlo proprio per aiutarvi a disintermediare cioè la presentazione della domanda siccome voi conoscete perfettamente il vostro mercato il vostro modello di business come nessuno mai noi invece vi facciamo questo check più formale più sui requisiti insomma eccetera abbiamo tantissime domande che sono andate a buon fine che non hanno visto nessun consulente e pagato un euro per presentare la domanda ovviamente è una scelta dell'azienda non c'è nessuna nessun da questo punto di vista insomma nessun aspetto di rimente a volte magari il commercialista entra per alcuni aspetti l'altra cosa è che in accompagnamento uno degli aspetti su cui mandiamo un alert è proprio il CAGR ma non per perché sappiamo che il comitato tecnico scientifico ha questa massia di attenzione conosciamo perfettamente cioè in quel caso rispetto magari a un grosso dislivello che può essere evidentemente anche fisiologico diciamo occhio date tutte le giustificazioni di un'azione di marketing particolarmente aggressiva e potente piuttosto che insomma per far vedere che diciamo la vostra crescita sarà evidentemente esponenziale rispetto questo era per dire comunque su questo poi entriamo entriamo al dettaglio non ci dimentichiamo però sempre quell'aspetto dell'innovazione ho visto che c'è anche un'altra domanda però quell'aspetto dell'innovazione diciamo poi dobbiamo magari vedere quali sono evidentemente su one to one lo possiamo fare tutti gli elementi che vi sono stati contestati per cercare di capire come eventualmente rimettervi in pista ok direi che insomma ci sono i presupposti per approfondire questa cosa e mi fa piacere che questa possa essere stata anche l'occasione per iniziare questo ulteriore dialogo credo che hai alzato la mano Davide Davide magari se riesci a farla in modo succinto e che con una risposta telegrafica riusciamo a chiudere senza senza fretta però velocissimo intanto ringrazio sia lei Federico che la dottoressa Zuccarini per la presentazione volevo chiedere proprio evocare one to one e ad accedere ai servizi d'orientamento giusto molto veloce tramite Federico se volete a me fa un piacere Federico insomma tramite YLab per noi sarebbe un piacere concordarli insieme che solitamente è il partner che ci chiede in modo tale che li facciamo anche a tre in modo tale che sia in Italia il nostro partner e l'impresa abbiamo un call center un contact center ma voi avete questa corsia preferenziale di essere all'interno di un partner per cui perché passare come dire dal contact center mi potete anche scrivere direttamente però veramente a me fa piacere che ci sia in questo caso l'intermediazione ma insomma direi virtuosa di di YLab e noi cogliamo con piacere questo questo task che ci hai dato e quindi ci mettiamo anche a disposizione perché poi abbiamo una serie di servizi che possiamo offrire alle start up questo è chiaramente un canale importante ci sono tante altre cose che si possono fare quindi benvenga questo questo passaggio questa tra virgolette intermediazione ci sono altre domande per Susanna? se qualcuno nel frattempo ci pensa ho dimenticato un un quando ho detto il nostro sogno è farle crescere le nostre imprese e le nostre start up già di fatto lo stiamo facendo mettendo in campo un plus una una novità di smart start che non tutti conoscono che è la possibilità di convertire il debito in fondo perduto nel momento in cui voi e siete proprio nell'ambito giusto raccoglietevi andate a a potenziare andate a capitalizzarvi ulteriormente durante insomma la realizzazione del progetto dopo la la missione del progetto acquisendo nuovi soci business angel rafforzando il capitale comunque anche da parte direttamente dei soci già esistenti investitori qualificati come può essere un fondo di venture quindi su quello insomma c'è anche la possibilità poi effettivamente di ridurre il in modo importante fino al 50% il debito che poi dovrete restituire peraltro in 36 dopo 36 mesi almeno insomma in 10 anni quindi un altro piccolo tassello che vi aiuta questo su questo ero preparato Susanna giuro perché l'ho sentito da più start up che stanno stanno ricorrendo a questo strumento quindi ben venga allora a me è piaciuto questo momento è stato un po' riprendere le vecchie abitudini però io ti ringrazio per essere venuti direi numerosi detto che ci eravamo detti che questo è un evento registrato noi poi lo pubblicheremo e quindi le persone possono chiaramente usufruirne anche dopo se volete anche fare un po' di pubblicità a chi dei vostri amici colleghi imprenditori o anche no vogliono ascoltare questo tipo di contenuto potete chiaramente condividerlo poi noi usciremo pubblicheremo sui nostri canali ringrazio Susanna per la tua partecipazione molto simpatica e poi mi ha fatto piacere che abbiamo potuto anche dare delle informazioni molto utili credo oggi e l'idea come vi dicevo è quella di farlo ogni mese di ospitare nel nostro piccolo spazio di YLAB un innovatore o una persona che si occupa di innovazione si occupa di start up non necessariamente sport però chiaramente con un occhio di riguardo anche al nostro verticale preferito e quindi speriamo che questa iniziativa possa continuare a crescere anche grazie a tutti voi che ci seguite questo è un po' il mio auspicio vi ringrazio e a questo punto buon pranzo e alla prossima grazie se esce qualche iniziativa qualche programma qualche incentivo caldo succulento ci prenotiamo per un altro innovation talk magari assolutamente poi ovviamente qui c'è anche parte del mio team vedo Giulia Gioele che avevo presentato prima c'è Vito quindi voglio dire c'è Mattias ci sono vari canali di accesso a YLAB facciamo tantissime iniziative per cui sentitevi liberi per chi ci conosce già di insistere su alcuni temi per chi non ci conosce di conoscerci tramite le nostre persone ecco questa è un po' la nostra missione quindi grazie ancora buon proseguimento di settimana e a presto con un altro YLAB innovation talk Grazie a tutti